indimenticabili. Signore e signori, ho il piacere di accogliere la signora Patti Bravo! Come stai? Ciao! Che meraviglia di tornare qui! Siete meravigliosi! Sono due anni che non toccavo un palcoscenico, guarda, tornare qui è veramente un'altra liberazione, è un'altra liberazione, è un'altra... È un grande piacere, è una felicità! Siamo qua ad ascoltare le tue meravigliose canzoni, quindi tutti insieme a cantare con Patti Bravo! Come fai girar, come fai girar, come fosse un'abandola, voglio mettere giù, voglio mettere giù, come fossi un'abandola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no, nel mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi più, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no! non lo ametterò più! No ragazzo, no, tu non mi metterai, tra le dieci bambone che non ti piacciono più! Oh no! Oh no! Oh no! Mamma! Tu mi fai girar, guardi tutti giù! Tu mi fai girar, come fossi una abandola. Grazie. 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 Ad Arena Suzuki, 60, 70, 80, patti, bravo! Un bacio grave! Allora, ti chiedo di tornare dopo. Naturalmente. per cantare e per cantare insieme a te ovviamente Pensiero Stupendo e il Paradiso e lo cantiamo tutti insieme ok a dopo tesoro grazie buonasera ciao Cassi grazie